buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al nostro oracolo angelico giornaliero andiamo a vedere le energie di oggi andiamo a vedere il modo migliore per canalizzare queste energie con il consiglio degli angeli e intanto vi ricordo che potete potete prenotare tramite sito internet o tramite email la vostra sessione con me oppure potete chiedere informazioni sui corsi magari avete voglia di iniziare anche voi un bel percorso di crescita personale tramite i tarocchio tramite la magia ed ecco che i miei corsi sono fatti apposta per questo perché ogni corso non solo vi insegna a fare qualcosa di pratico ma vi fa inevitabilmente crescere interiormente quindi se vi interessa questo tipo di percorso vi invito a guardare il sito ma andiamo a vedere le carte di oggi molto molto bene oggi voi magari qualcuno che bazzica il mondo dei tarocchi vede il tre di spade dice oh mamma mia che carta brutta no no non è vero assolutamente anzi in questo contesto è una carta molto bella perché perché è rovesciato innanzitutto quindi per me rappresenta lo smettere di soffrire e perché associato a queste due carte non può che rappresentare lo smettere di soffrire quando si impara a leggere i tarocchi una cosa che io spiego sempre ai miei studenti è che bisogna essere flessibili perché una carta anche se ha dei significati prestabiliti prestabiliti dalla tradizione prestabiliti magari da me per chi studia il metodo maia e quindi ci sono dei significati che appunto sono stati scelti per rappresentare le energie ma in realtà bisogna sempre essere flessibili perché una lama può anche uscire dai suoi significati abituali e assumere dei significati paralleli in base alle lame che ci sono attorno in base alla posizione nella stesa ma non solo quando questa lama è rovesciata come si vede poi invece nel secondo livello quindi i miei studenti di tarologia avanzata stanno studiando questa parte quando una lama è rovesciata può il numero di significati aumenta esponenzialmente perché una lama rovesciata può significare l'opposto della lama diritta può significare un ritardo nella manifestazione dell'energia diritta può significare un cambiamento di polarità può significare un peggiorativo può significare veramente tante cose quindi se noi partiamo da un tot numero di significati iniziali e poi lo rovesciamo è ovvio che il numero di significati aumenta esponenzialmente non raddoppia ma aumenta esponenzialmente comunque associando il tre di spade al sei di coppe al nove di tenari abbiamo una giornata molto molto bella perché tra l'altro è possibile possibile che incontreremo anche qualcuno dal nostro passato o sentiremo qualcuno dal nostro passato o comunque proveremo nostalgia per qualcosa del nostro passato ma io propendo per un incontro per una telefonata per la maggior parte di noi perché se smettiamo di soffrire vuol dire che qualcosa per cui stavamo soffrendo smette di esistere se noi avevamo litigato con qualcuno e stavamo male per via di questo litigio o per via di questo allontanamento ecco che con il sei di coppe subito dopo smettiamo di soffrire perché finalmente ci riuniamo con questa persona con la quale avevamo avuto problemi il sei di coppe che per me è la carta delle anime gemelle come spiego nella lezione sulle carte karmiche ha per la tradizione il significato di nostalgia o qualcuno dal passato però insieme al tre di spade rovesciato per me significa proprio che magari o qualcuno con cui appunto recentemente avevamo avuto qualche battibecco si riavvicina o noi ci riavviciniamo a questo qualcuno o addirittura dal nostro passato torna in vita qualche cadavere qualche 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 vecchio zombie qualcuno che ritorna a farsi sentire dopo che magari la cosa si era conclusa anche male o magari dopo che eravamo stati un po male perché era da tanto tempo che non ci sentivamo la carta finale inoltre che è quella che obiettivamente fra tutte mi fa sentir meglio è il nove di denari perché la carta di chi sta bene è proprio i nove in generale parliamo dei nove in generale i nove sono i numeri che stanno prima del dieci e fin qui ci siamo tutti ma se il dieci nelle carte numerate dei tarocchi rappresenta sempre la fine di qualcosa la fine di un percorso il nove rappresenta cosa accade prima di arrivare alla fine del percorso e di solito prima di arrivare alla fine del percorso arriva qualcosa che ci fa essere pronti a terminare il percorso quindi secondo me i nove sono anche più importanti dei dieci perché nel nove che si manifesta la completezza di cui noi abbiamo bisogno per arrivare alla conclusione è il nove che ci dà il benessere assoluto o il malessere estremo che ci porta poi a terminare bene o male un qualcosa quindi ecco che con questo nove di denari cosa accade smettiamo di soffrire perché qualcosa dal passato sia giusta ed ecco che finalmente stiamo bene ma non è uno stare bene perché c'è un'altra persona questo è uno stare bene indipendente dagli altri questo è uno stare bene che è un sto bene anche da solo sto bene con me stesso sto bene perché ho tutto quello che mi serve perché non mi manca nulla vediamo adesso qual è il consiglio degli angeli per canalizzare questa energia magnifica del nove e per gestire magari al meglio tutto il processo troppe 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 ce ne serve una sola e perché escono tutte queste carte a me serve una sola una ragazzi una non me la volete dare una e allora la prendo io ok eccola qui la regina di aria che ci invita a prendere decisioni obiettive e eliminare tutto quello che non serve più e cogliere possibilmente anche il lato comico delle situazioni evitando di drammatizzare cose che drammi non ne hanno questa è una carta che ci dice in effetti che avremo l'intelligenza e la loquacità di concludere bene un qualcosa ecco che per qualcuno di noi come vi dicevo questo passato che ritorna alla luce o alla mente o anche solamente alla mente è un come un riunirci con una vecchia parte di noi o con qualcuno ma questo non significa che staremo insieme per sempre questo significa che qui abbiamo la possibilità di decidere se continuare a mantenere il nostro rapporto oppure se eliminarlo per sempre non ha importanza la verità perché alla fine col 9 di denari qualunque sia la scelta che facciamo e magari me lo commentate qui sotto qualunque sia la scelta che facciamo stiamo bene e questa è la cosa importante è il finale dell'happy ending dello stare bene quindi prendete decisioni obiettive sagge logiche eliminate quello che non serve più e cogliete il lato comico delle situazioni e non drammatizzate nulla perché alla fine è tutto super a posto per il resto vi invito ad andare sul sito o inviare una mail o ci vediamo domani